Noo si in Parigi, ci tendo a dire, noo si nervose, noo si in paghiù, noo si in paghiù, noo si in paghiù, noo si in paghiù. Cos'è lo sanno, io meglio il paese, non c'è l'erba, ma sono del paese. Sì, ma è meglio il tuo continente, e io faccio questa tarandella. Tocca, 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 se non mi ha tratto le veri di cocco, la conzella ti ha passo a casa, le tele toste, ma non le attocco. Se voi venite da Barbecki, anche a Michele che baccolette, se voi venite a Piazza Massari, anche a Nanuccio che l'acqua, ma è senza da Barbecki, sta la Battista, sto nelle guardi con la divisa, poi sta la chiesa di Santa Nicola, a cui si vede le cibi di cola. Cos'è lo sanno, io meglio il paese, non c'è l'erba, ma sono del paese, sì, ma è meglio il tuo continente, e io faccio questa tarandella. Tocca, 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 se non mi ha tratto le veri di cocco, la conzella ti ha passo a casa, le tele toste, ma non le attocco. Stai via Piccini, stai via Sparani, signore, signore che la porta a mano, sta grande Italia, salassa i caffi, a dove si mettono i dritti lì l'offe, sta lungo mare, adesso va in modo, stai via Marconi e la Piazza Levanti, stai po' Giofrango, poi io ne appigio, testa la Piazza, baby parchi Luigi. Gio, c'è lo sanno, io meglio il paese, non c'è l'erba, ma sono del paese, sì, ma è meglio il tuo continente, e io faccio questa tarandella. Tocca, 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 se non mi ha tratto le veri di cocco, la conzella ti ha passo a casa, le tele toste, ma non le attocco. Yaca Perducci, yaca Lenucci, quella che è facile a vara回cciuccio, sta così cigio ed è un test peppino, ciume in vitte, palenzino, mada dell'invento, testa il cicillo, quando che ha giusto il ginodio e lembrillo, appena di volso, la penandina di una carta, e tu yacce mabella, che ti compenga il suo frotto sul teine. Bossa d'ossam, io meglio il paese, non le 18' l'erba, ma sto nella pari, sì, ma è meglio il tuo continente, E' già fatica, è stata randella Tocchi, 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 si hanno matrato le veri bicocco La consa lo diava a sua casa, le tiene tosta, ma non le accocco Posta a vittino che è un bagno di rini, vogliono a Bedugna, la casa di Peppino Posta a Lucetta, quella scopetta, gliela riporto di Rocchino e Marietta A via Sparano, da stranieri, tutto ci passa da guardi dei piedi Resta salvato, belli guagnoli, tutti che vengono